Donas Benzoni di Crusone, un nome che oggi conosciamo tutti per la sua partecipazione a Project Runway Italia, ma un nome che è da un po', diciamo così, che è sul mercato perché il suo sogno di fare la stilista lo coltiva ormai da anni. Siamo proprio nel suo punto vendita all'Overe per capire un po' come è nato questo sogno, come si è realizzato e ad oggi insomma che cosa vuol dire vedere il proprio marchio sui vestiti che indossano le altre persone. Allora Donas raccontaci un po' come è nata questa avventura. Allora questa avventura è nata diciamo un po' per caso, un po' per una fortissima voglia di intraprendere questo lavoro. Diciamo che è la mia passione da sempre, da quando sono bambina, che mi cuccio le gonne da sola, finché quando ho fatto le superiori ho fatto l'istituto professionale che mi ha dato delle competenze tecniche, poi ho fatto l'accademia e ho scelto di portare avanti con sacrifici perché per l'amor del cielo quando uno cerca di aprire un'attività o farsi conoscere in un ambito creativo ma che comunque è versa sul mercato, le difficoltà comunque ci sono, insomma ecco è innegabile. Ma la tua determinazione ti porta oggi ad avere addirittura un tuo punto vendita. Qual è lo stile che caratterizza i tuoi abiti? Mi dicevi prima qualità ma comunque un prezzo diciamo abbastanza accessibile perché il vero made in Italy può essere accessibile a tutti. Sì, esattamente, sono pienamente d'accordo con te. Tra le due fasce fondamentali di mercato che è quindi il made in Italy di spicco che ha un costo piuttosto elevato al made in Cina che ha un costo ovviamente contenuto, nel mezzo esistono diverse realtà che danno la possibilità di comprare ancora un prodotto buono con tessuti italiani guadagnando un po' meno chi li produce, chi lo vende e andando incontro anche alla clientela che sceglie di non spendere cifre esorbitanti ma comunque ha piacere di comprarsi un buon vestito, primo. Secondo, nel mio caso specifico, un vestito un pochino diverso dal solito. Per una donna che si vuole sentire unica, mi dicevi, i miei clienti vogliono spiccare. Sì, sì, allora, sono consapevoli di non vestire tutte le donne perché ho un abbigliamento, ho uno stile che è molto particolare e fortemente connotato. Non tutte amano ovviamente il mio stile ma quelle, tra virgolette, che mi amano vengono e chiedono di proposito un abito unico, voglio essere unica, pensami questo abito solo per me oppure optano per la serie limitata perché hanno piacere di non essere simili a tante altre, insomma, ecco. E questo aspetto ti ha portato poi a partecipare alla trasmissione che ti vede reduce dalla tua uscita, diciamo. Com'è andata questa esperienza, essere sotto i riflettori e lavorare sotto i riflettori, cosa vuol dire? È un'esperienza che segna profondamente. Al di là delle difficoltà che possono esserci per quanto riguarda la convivenza, c'è comunque una crescita nel momento in cui vivi con dodici persone che hanno le tue stesse ambizioni e la tua stessa passione, primo. Secondo, la voglia di mettersi in gioco irrimediabilmente ti fa crescere perché comunque sperimenti i tuoi limiti e vai oltre a questo. Cresci, cresci profondamente. L'unico rammarico di questa trasmissione, lo dirò sempre, che purtroppo, o per fortuna, non ho mai avuto nemmeno un giudizio negativo dalla giuria ed è un peccato, magari avrei potuto imparare un po' di più. È andata come è andata, non vogliamo fare polemica perché non ci interessa. Diciamo che un piccolo tuo errorino ha fatto sì che tu venissi esclusa, ma è forse questa la caratteristica del tuo carattere, andare sempre per la tua linea, per i tuoi obiettivi dritta senza tornare indietro. Esatto, esatto. Mia madre mi pendeva in giro e mi diceva ma non potevi lazzaronare sempre te e la tua abitudine di lavorare. Ha ragione, è una cosa che per me è naturale. Ho visto quella cosa che era storta e ho tirato quella linea, insomma, perché fa parte di me, insomma. Adesso comunque gli obiettivi immagino che siano tanti, noi ti facciamo tanti in bocca al lupo. Grazie, cresci. Se vuoi svelarci magari qualche anticipazione su cosa stai lavorando, nuove collezioni. Allora, per quanto riguarda i progetti di lavoro che non siano, la mia collezione dell'estivo prossimo alla quale sto lavorando, che promette bene, nel senso che sono molto soddisfatta e spero di migliorarmi ancora, ovviamente, perché poi è l'obiettivo costante da una collezione all'altra, sempre migliorare, sempre cercare tessuti differenti e quant'altro. Per quanto riguarda gli altri obiettivi, sono talmente scaramantica che non dico nulla. E ci lasciamo ancora in bocca al lupo. Crepi, crepi, grazie mille.